Salve a tutti! Gli ha fatto il governo in Italia, avesse nascorti? Quando si impizza la televisione, il dramma, bisogna continuare a cambiare canale perché ne parla d'altro, d'esta roba, il Rousseau, il 5 Stelle, il PD, tutta gente sconosciuta che non aveva mai visto, gli ha riportato in auge. Prodi sarà Presidente della Repubblica sicuramente la prossima volta. Questi qua non moro mai. Allora, facendo un'analisi di che governo gli ha fatto, su 21 persone, 15 sono tutte provenienti dalle zone più belle d'Italia per il turismo, per il mare, per tante robe, le isole, perché mi piace girarla l'Italia, anche in ferie, io sono nata dappertutto, mi cominci dappertutto. Però è nata anche la Sacra Corona Unita, è nata la mafia, è nata l'andrangheta, è nata la camorra, quelle zone che sariano così belle. Allora, i 15, soprattutto i ministeri che conta, è una stranezza unica, i ministeri che conta, i ragazzi, tutti questa provenienza geografica, guardala bene. Allora, questa provenienza geografica al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le vende a Puglia, le vende a Foggia. Sabe che quando c'è vanferi a Foggia, i mette sotto ciave tutti i banditi perché non li disturba i turisti, no? E che è la mafia lì che la fa delle stragi. Iacopà anche a mio amico, guardala, era la guardia mia, la guardia del villaggio dove andavo spesso sul Gargano, che mi piaceva un arabaia a Manacora. Beh, Iacopà con una pistolata a mezza alla testa qua, i Gasbarà, in pieno giorno dentro, non tanto ne va a fare la guardia, il villaggio turistico fuori stagioni. Queste le zone, eh, da dove che proviene queste persone. Luigi Di Maio, Avellino, anche una bella regione, però insomma, che tocca camminare tutti al nord a lavorare le 50 anni, no, le 100 anni, perché parlava del mezzogiorno che era mio nonno ancora, oltre che mio papà, e ancora si parla del mezzogiorno perché addirittura questi si è fatti ministro del sud, perché bisogna fare ministro del sud e ministro del nord, no, o ministro del centro, ministro del sud, parlendo ancora di sto mezzogiorno che non si capisce come andava avanti. Dopo gli ha fatto ministro degli interni la Luciana Lamorgese, potenza, penso che sia da quelle regioni lì, economia, economia è una roba importante, Roberto Gualtieri del PD, Roma, e la giustizia, dove che funziona veramente bene la giustizia in quella regione, Alfonso Bonafede vende a Trapani, Trapani, sapete dove l'è Trapani, Trapani viene in Sicilia, lavoro non sia catalfo, perché è importante che aventi dei ministri di lavoro chi venia da regioni dove che lavoro è molto importante, Catania, Catania, vi posso contare che sono stanca in ferie in quelle zone, la conosco benissimo la Sicilia, so benissimo come che la funziona, è meglio che Tasa, perché sono in Italia del rassista, perché io non sono rassista, io ho girato il mondo, ho girato l'Europa, ho girato tutta l'Italia, non il mondo, Europa Italia. L'ambiente, è molto importante l'ambiente, Bison Thor, il ministro, dov'è che l'ambiente funziona? Forse anche se non funziona, sapete che i fogli, che bruciano le mondizie? Allora l'ambiente, io a me, Sergio Costa, da dove viene, da dove, nato? Napoli, Napoli dove? Che l'aria buona con tutti i mucchi dei mondizi, che brucia, che io so che i mori dei tumori, i poreti, non è perché ne funziona, la nostra amministrazione, perciò se la sta anche come candidato proveniente dalle zone dove le vere battaglie doveva farle sul territorio. L'agricoltura, siccome funziona molto bene l'agricoltura, e in effetti vedrò che la Puglia è sempre stata bellissima, a me piaceva da matti, perché era veramente tutto coltivato dagli ulivi all'uva, è bellissima, però la venda brindisi, noi l'agricoltura al nord non funziona, guarda che sto facendo delle battute, affari europei, questo è molto importante, perché gli affaristi, i veri affaristi nella vita, noi lo sapevamo, perché noi non siamo dei grandi venditori, soprattutto qui della mia regione, tirolesi, benché me, non sei che ne a contrattare o a barattare il prezzo, noi descende quei quadrati che il prezzo è unico, comunque Enzo Mendola, affari europei, Napoli, mezzogiorno, cioè vuol dire che io dovevo fare il ministro del sud, ma allora se fossero incoerenti o corretti, come il ministro del nord, il ministro del centro, il ministro del sud, il ministro delle isole, non so, però che è il ministro del sud, e siccome che il vent è una zona dove funziona, penso che le battaglie poteva farle in quelle zone, ben Giuseppe Provenzano sarà il nuovo ministro del sud, proveniente da una regione che porta tanti di quei soldi a Roma, quando ti tira sui soldi delle tasse, tu che fa paura, Caltanissetta, è una cittadina bellissima, perché l'ho fatta a motomi all'interno della Sicilia, no? Ad attraverso, Enna, Caltanissetta, bellissimi posti, però Caltanissetta è in Sicilia. Gli affari regionali, che questo è molto importante, il rapporto con le regioni, gli affari regionali, bisogna mettere sempre sicuramente una persona che venga almeno da una regione che funziona, così se il savesse come funzionano le regioni, il che insegna a quelle che non funzionano. Gli affari regionali, Francesco Boccial vende a Bisceglie, e Bisceglie naturalmente l'è ancora in Puglia. Istruzione e università, è importantissima l'istruzione e l'università, perché bisogna rispettare l'istruzione in tutte le regioni, bisogna dettar legge, che le regioni non sappiano la sua storia, ma che le sappiano la storia sola, che vende a Roma, perché in Italia gli è convinti che sta solo l'impero romano, non stai toccando l'Italia, perché noi lo sa che era i Celti, che era altre popolazioni, che era altre storie, questo noi lo sa, però bisogna imporre la storia romana, e di fatti Lorenzo Fioramonti, Fioramonti è il vento a Roma. la salute, la salute, mi pare che c'è qualche regione d'Italia che funziona agli ospedali, no? E che funziona anche al sistema sanitario, allora mi preferiria mettere qualcuno che vende a una regione dove chissà che funziona un po' il sistema sanitario, che il poda insegnare alle regioni d'Italia, no? Dove che non le funziona. Allora, alla salute, io a messo Roberto Speranza, proprio da Speranza, il vento a una regione dove la sanità la funziona benissimo, da potenza. Allo sport, penso che lo sport sia una cosa importante, no? Soprattutto al settore giovanile, è forte perché Vincenzo Spadafora, il vento a Napoli, naturalmente Presidente della Repubblica in Italia, non si poteva che avere una provenienza migliore, dalla regione simbolo d'Italia, come funzionano le robe, perché la regione siciliana è perfetta, no? L'hanno dà degli esempi incredibili, gli si è stabiliti dei stipendi da una babbi che fa paura, i galazanche che tocca migrare al nord per venire a lavorare in una regione autonoma, comunque il Sergio Mattarella che è una carica importante in questa nazione, venendo Palermo. Allora, mi dico, bisogna essere onesti, che avevano qualche ministero che conta molto poco, tipo i rapporti col Parlamento, Federico Dinka, che vende a Belun, e la Pisano, che vende a Torino, Dadone, che vende per la pubblica amministrazione da Cuneo, e per le pari opportunità e la famiglia. Vende a Asola, Mantua, Guerini alla difesa, no? Che è importante la difesa. Siccome la difesa in Italia la funziona, no? Gli armati fino ai denti, i polvi in erdenti danno chi vuole in Italia e tutte le armi che avevano comprato e che avevano andato a questi qua armati fino ai denti non le serve proprio a niente. Non so perché compro le armi, ma cosa cavolo compro le armi? Tanto non può fare niente. Tanti vende dappertutto e la Patuenelli Stefano da Trieste, Gavenna De Micheli alle infrastrutture da Piacenza e Gavenna Dario Franceschini, che lui l'è della cultura, l'è sempre sta nella cultura e il turismo da Ferrara, però in nominano Riccardo Fracaro, il sottosegretario adesso da Montebelluna. Però la bilancia l'è sempre 15 a 9, cioè che è uno sbilanciamento di copertura, delle cariche che contano nello Stato italiano, nel governo, che gattutino provenienza da regioni che non funzionano tanto bene. Ma quale esempio può dare queste persone provenienti da queste regioni? Mi me lo fate tutte le regioni d'Italia, che ero un appassionato della moto, una volta giravo, mi piace girare. Ma Gavenna ha anche altre regioni d'Italia dove le robe le funzionano, che sarebbe da dare i nostri rappresentanti, per insegnargli come le dovrebbero funzionare. No, l'è tutta sbilanciato a sud, sbilanciato verso quelle regioni che è famose in tutto il mondo, perché le è famose in tutto il mondo, per altri motivi molto gravi. E ora mi dico auguri, auguri, però è brutto dirlo che è questa sbilanciatura, perché gattanti che ha votato anche questi partiti che vengono provenienti dalle nostre regioni. Guardate che mi non dovrei parlare dell'Italia, perché primo non mi sento italiano, perché i tirolesi noi è italiani, Gavenna Storia è una cultura completamente diversa, però l'era giusto che fissa sto video per dirvi due tre robe, anche ridendo, perché tanto cosa voleva farlo? Lui dica la ridervi è sola, perché tanto a quei che gana partita IVA, quei che lavora, i lavoratori, anche dipendenti, lei pubis trattati che ganna in Europa. pur di vivere, ne tocca accettare tutto quello che ne casca d'ossi, sarebbe bello che si risvegliasse al popolo e il popolo si tolisse a mano l'Italia, comunque, si vuole tolisse a mano, a me guarda non mi interessa più di tanto, saluti.